Svolta nell'omicidio di Udine, è stato trovato l'assassino di Silvia Gobbato. È un 36enne con problemi psichici e in cura presso una struttura di igiene mentale e secondo alcune notizie trapelate avrebbe già confessato. È di Pozzuolo del Friuli, è stato preso mentre passeggiava in bicicletta e portato nella caserma di Viale Trieste a Udine per accertamenti. Aveva con sé un coltello da cucina sporco di sangue come i suoi abiti ed era, secondo fonti vicine agli investigatori, in stato confusionale. Sulle braccia aveva segni e graffi compatibili con una collutazione con la povera ragazza. La 28enne, aspirante avvocato, è stata uccisa dalle 13 alle 13 e 40 e è stata letteralmente massacrata da 12 coltellate nel breve spazio di tempo in cui il suo amico e collega Giorgio Ortis l'ha staccata mentre facevano jogging per percorrere una distanza più lunga. Il ragazzo era stato interrogato per ore ma la sua deposizione aveva convinto gli inquirenti che l'avevano definita lineare. Era stato inoltre escluso dai sospettati e anche l'ex fidanzato della vittima perché aveva un alibi di ferro. Si trovava in palestra e c'erano molti testimoni in grado di dimostrarlo. La procura però era poco propensa a sospettare di un maniaco visto che in zona non erano stati segnalati. Ma gli investigatori hanno continuato a cercare il coltello che non si trovava fino a quando è comparso addosso al malato di mente.